Prima giornata di blocco totale del traffico a Pavia. Dalle 10 di questa mattina fino alle 16 di oggi pomeriggio è stata vietata la circolazione su tutto il territorio cittadino. Il provvedimento preso da molti comuni italiani mira a migliorare la qualità dell'aria attraverso la diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Il comune di Pavia ha infatti sottolineato che persistono criticità relative alle concentrazioni in atmosfera di PM10 che permangono al di sopra dei livelli fissati dalle direttive europee vigenti. Il blocco del traffico sarà attivo anche martedì 29 e mercoledì 30 dicembre dalle 10 alle 16.